Buck Rescue Remedy è un rimedio naturale a base di fiori di buck ad azione calmante e immediata per attenuare ansia e agitazione e far fronte a quelle situazioni che possono alterare l'equilibrio psicofisico. È indicato in caso di situazioni di stress, stati d'ansia improvvisi, tensione e nervosismo, paura e difficoltà di gestione delle emozioni. Si tratta di un prodotto in gocce formulato con 5 fiori di buck che lavorano su 5 specifiche alterazioni emozionali, in particolare contiene Rock Rose per gli stati di panico, Climatis per recuperare il contatto con la realtà, Impatience per attenuare l'agitazione, Cherry Plum calmante nelle situazioni di stress e Star of Beatleham per superare i traumi. Come si assume? 4 gocce al bisogno oppure o diluite in un bicchiere d'acqua da assumere a piccoli sorsi ravvicinati. Avvertenze, contattare il medico in caso di allergia dovuto all'assunzione di uno o più fiori.